E' soltanto per te, era sfidato, ei re re re, pur di tenerti da sempre con me. E dentro al cuore del muro c'è solo verità, sei come il sangue delle mie rete, ho travestito vinciso per te. Oltre la polvere delle città, ho conosciuto vendetta e pietà, ed ho affrontato il dolore perché un altro modo di averti non c'è. Attraversando gli oceani per te, mari in tempesta e il vento, quante ferite ho sofferto perché ho scritto un raso nel vuoto per te. E dentro al cuore del muro c'è solo verità, sei come il sangue delle mie ferite, ho attraversato l'inferno per te. Ho attraversato deserti per te, ho valicato montagne per te, ed ho versato il mio sangue perché ho combattuto e sfidato nemici più forti di me. A scritto frasi nel vuoto per te. 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 Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie. Tutto a po' dopo perché prima parlavo in inglese con i Black Cruz. Per l'altro se con voi posso parlare in dialetto? Io in inglese non posso parlare. Peppe, puoi venire qua. Puoi venire qua. Un attimo solo. Vorrei... Aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché forse abbiamo un'incursione, abbiamo un amico che ci viene a trovare. Perché come dicevamo poc'anzi, le reti Rai sono tutte collegate. In questo momento ci stiamo praticamente collegando tra Rai 1 con Rai 2. C'è da Rai 1... Eccolo! E' Luigi Diaco! Eccolo! Eccoci qua! Ciao Paolo! I Romani! I Romani! Rosanna, vieni! Ciao Paolo! Scusa prima, prima, prima! E' lei! Rosi, benvenuta! Ma lo sai provata ballando? Siamo passata di qui! Ci siamo fatti una passeggiata! Siamo passata, siamo venuti! Perché anche Rai 2 è sempre accanto a Teleton, giusto? Assolutamente! Ovviamente tra pochissimo Paolo Belli, Tiberio Timperi e Arianna Ciampoli saranno in onda su Rai 2 a partire da 16.05. Noi abbiamo preso praticamente la linea in diretta e in contemporanea su Rai 2 e Rai 1 sta andando in onda a questo momento. Siamo su Rai 2 anche? Siamo su Rai 2! Allora, salutiamo gli amici di Rai 2! Allora, fammi fare una cosa, stacchiamo la regia di Rai 2, do appuntamento con bella mano domani alle 15.25 ovviamente, pubblicità e da Rai 1 si passa a Rai 2 con la maratona Teleton e grazie ancora a Rosanna Banco! Grazie! Adesso mi trovo su Rai 1! Sì, in questo momento sì! Allora, scusate, era solo per dirvi che ho chiamato gli amici nomadi qualche giorno fa, erano all'estero. Potete venire sì, perché loro sono sempre stati molto vicini a Teleton, ma io sfrutto l'occasione e canto con loro Io Magabondo! Se volete restare qui con noi, cantiamo Io Magabondo! Posso presentarti? Allora, in diretta su Rai 1 con la presenza di Rosanna Banfi, con la conduzione di Belli, Timperi e Rianna Ciampoli, i nomadi cantano con Paolo Belli! Io Magabondo! Io, un giorno crescerò E nel cielo della vita volerò Un vivo che ne sa Se ancora non può essere l'età Poi, una notte di settembre Mi svegliai Il vento sulle pelle Sul mio corpo il chiarore delle stelle Chissà dov'era casa mia E quel bambino che giocava in un cortile Io, vagabondo che sono io Vagabondo che non sono altro Soldi in tasca non ne ho Ma nessuno è rimasto Dio Sì, la strada è ancora là Un deserto mi sembrava la città Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino E il fuoco di un cammino E il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino Poi, una notte di settembre Mediacai Il fuoco di un cammino venite venite grazie 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 ce l'ho ce l'ho signora venga qui signora che sta succedendo signora venga qui con me che emozione abbiano cantato dalla prima all'ultima parola ha cantato tutta quanta la canzone non me lo subi Beppe Carugheri ti dia un bacio ne approfitti e adesso può tornare grazie arrivederci che emozione grazie visto che avete sempre sposato la nostra carriera in sociale chi meglio di voi ci siete già percebuto quindi di donare il più possibile per questa grande iniziativa che farà star bene e felici tante persone mentre stai parlando lo vedi che c'è un triangolino in basso a destra te lo ricordi quando nacque Rai 2 nel 61 è vero la Rai si dovette inventare qualche cosa per dire guardate che dall'altra parte iniziano dei programmi difatti noi ci stiamo per spostare su Rai 2 però non dimenticate di mandare sms al 45510 ve lo chiedono anche i nomadi non potete non farlo grazie 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 che gioia per il cuore tutto questo cuore tanti cuori come questi eccoli stiamo arrivando grazie la lasciamo fuori voi continuate a donare grazie 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 grazie